L'album di famiglia Ciao Fatima, sai cosa ho fatto ieri? No, racconta! Ho guardato insieme al mio fratello il nostro album di famiglia Avete un album di famiglia? Sì, l'ho abortato mia mamma quando è venuta a conoscere la nipotina Davvero? Sì, ci siamo emozionati molto quando abbiamo visto le foto dei nostri nonni Io ero appena nato e stavo in braccio alla nonna E mio fratello che aveva tre anni teneva per mano il nonno Che bei ricordi! In una foto c'era mia sorella Alcheta che piangeva di rotto Perché il suo gelato era caduto per terra Abbiamo riso un sacco Mi immagino C'era anche una foto di classe con tutti i miei compagni e la mia maestra Eri bravo a scuola? Mi piaceva la scuola e mi impegnavo molto Anch'io andavo molto volentieri a scuola E tu? Non hai un album di famiglia? Ho delle foto di quando ero bambina ma ora faccio le foto con il cellulare Così le posso condividere subito con i miei amici e la mia famiglia in Marocco Ho anche creato un album digitale Che bello! Insegna anche a me come si fa? Certamente! È facilissimo! Insegna anche a me come si fa? Grazie!